Come ti chiami? Allora, mi chiamo Silvia, Silvia Spano. Che cosa fai nella vita? Lavoro con le persone d'azienda, faccio formazioni aziendate. Che cosa ti è piaciuto di questo corso LGBT Ambassador? Che cosa hai scoperto? Allora, mi è piaciuto avere la conferma che siamo un po' tutti uguali. Cioè, quando siamo, come dire, di fronte a qualcosa che vediamo che è diversa da noi, fra virgolette, ci comportiamo un po' tutti nello stesso modo, sia quindi nel disagio che nel, come dire, nell'affrontare la persona che appunto pensiamo abbia delle sfaccettature, delle diversità da noi, quando invece è una persona esattamente uguale a noi e come noi quando veniamo discriminate si sente a disagio e quindi reagisce magari in modi particolari, in modi strani. A chi lo consiglieresti e perché? Vista la situazione mondiale, la situazione sociale, penso che lo consiglierei a chiunque, nel senso che sarebbe un corso che tutti, forse soprattutto i giovani, che sono inquinati dal nostro pensiero, noi che non abbiamo più 20 anni, neanche 30, e che abbiamo creato questi pensieri un po' strani rispetto alla diversità e sicuramente i giovani non hanno tratto un beneficio, quindi credo che in primis dovremmo vederlo noi e poi forse anche i giovani sicuramente, tutte le persone. Perfetto, ti ringrazio. Prego.